Pino Torinese. Nella notte a Pino Torinese i carabinieri hanno sventato tre tentativi di furto in case. La banda, che ha tentato di colpire dillette abitate da anziani è riuscita a fuggire, ma i militari hanno individuato e sequestrato l'auto, una Fiat Chroma, utilizzata per raggiungere la località collinare. Sono in corso analisi delle tracce biologiche e delle impronte digitali raccolte sul veicolo per arrivare a individuare i maldiventi.